Musica Piene di energia, piene generosi nell'erogare cavalli Quindi l'eroglio Super 1600, Luca Ferro, Roberto Imperdonato Beh, una classe che sto vedendo è molto interessante questa delle Super 1600 Sì, sì, diciamo il 26, dai E voi come partite in attacco e in difesa? Dipende Noi partiamo in attacco, però la macchina ci deve permettere di attaccare Allora ce lo racconterai dopo, ecco stiamo già prendendo degli spunti Sui quali torneremo poi nelle prossime ore quando insieme rivivremo le fasi più interessanti Della prima parte di gara saranno due le prove speciali questa sera La prova speciale che sta per prendere il via lo farà alle 18.54 Ovvero la Gioiosa Marea 1 Poi ci sarà un riordino da 1 ora e 45 La Gioiosa Marea in via Giulio Forzano E subito dopo Gioiosa Marea 2 Altri 9 chilometri di grande adrenalina con lo stacco Poi ci sarà un riordino di grande adrenalina! Grazie a tutti. Grazie a tutti.